Musica A tutti buonasera dal TG Prato Blitz della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate all'Euroingro, il polo commerciale di Prato, il polo commerciale gestito da cinesi nel macrolotto di Prato. Pensate che a fronte di 12 milioni di giro d'affari annuo, appena un gettito di IVA di 60 mila euro. Un giro d'affari di 12 milioni l'anno a fronte di appena 60 mila euro di IVA versata, una sproporzione che ha convinto la Guardia di Finanza e l'Agenzia delle Entrate di Prato a verificare in maniera più approfondita l'attività del polo commerciale Euroingro, complesso che conta 60 aziende cinesi e che occupa una grossa porzione del macrolotto 1, tra via Paronese, via Dei Fossi, via Gora del Pero. Stamani un centinaio tra funzionari e militari si sono presentati all'Euroingro. Controlli incrociati su tutta la documentazione di ogni singola ditta, decine di persone identificate. Siamo partiti da un'analisi della situazione dei soggetti che operano all'interno della struttura, verificando che nel corso degli ultimi anni, in particolar modo del 2013, a fronte di un volume d'affari che si aggira intorno ai 12 milioni di euro, abbiamo potuto constatare che c'è una redditività molto bassa. Soprattutto, per quanto riguarda i versamenti IVA, abbiamo riscontrato una media di versamenti IVA che non supera i 1000 euro per ciascun soggetto che opera. E gioco forza da parte dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, una volta effettuato questo tipo di analisi, entrare direttamente nella struttura e quindi sui soggetti che operano, per verificare la situazione fiscale dei soggetti. Il blitz, non il primo all'Euroingro, è durato diverse ore. Tutto quanto verrà analizzato nei nostri uffici. In molti casi si arriverà probabilmente ad emettere degli avvisi di accertamento una volta che sarà dimostrata l'evasione d'imposta da parte dei soggetti. Un lavoro impegnativo, frutto della sinergia con la Guardia di Finanza. Il controllo seguirà il suo percorso. Il fenomeno evasivo è quello che ci preme di più in questo caso. Quindi è probabile che riscontreremo delle violazioni in materia fiscale. La polizia ha bloccato e denunciato un eritreo di 34 anni, residente in Italia in modo regolare, che ieri ha dato fuoco ad una slot machine all'interno del bar Imperatore in Viale Piave. Agli agenti ha spiegato di aver incendiato la macchinetta, poiché nell'arco di una sola giornata ci aveva perso 1000 euro, somma che equivale al suo stipendio mensile. Per questo, dopo essersi procurato una bottiglia di liquido infiammabile, è tornato all'interno della sala slot del bar e si è, per così dire, vendicato. Spariti i profughi arrivati a Prato giovedì sera, ospiti di Villa del Palco. Di loro si sono perse le tracce nel fine settimana e ora sono di fatto dei clandestini. I 40 profughi siriani non sono più a Villa del Palco e nessuno sa dove siano. Se ne sono andati volontariamente e di nascosto tra sabato mattina e la notte, a piccoli gruppi, chi in taxi e chi a piedi. Ieri mattina i volontari della Caritas hanno trovato tutte le stanze vuote. È lecito pensare che siano fuggiti per aggiungere parenti e amici in Europa, chi in Germania, chi in Belgio, chi in Olanda. Destinazioni precise che avevano fissato prima di imbarcarsi da Tunisi verso la Sicilia. Oggi 40 profughi arrivati giovedì sera avrebbero dovuto iniziare le operazioni di identificazione per ottenere il permesso di soggiorno come rifugiato politico. Un'operazione questa che richiede almeno sei mesi e dunque il gruppo, composto in tutto da nove nuclei familiari, sarebbe dovuto restare a Prato tutto questo tempo. Cosa che non deve essere piaciuta molto ai profughi, dato che avevano già parenti e amici ad attenderli fuori Italia. E così, alla spicciolata, sono andati via. In meno di 72 ore è stato così risolto, in maniera del tutto imprevedibile, il problema di dare una sistemazione stabile ai 40 profughi, in alternativa a Villa del Palco, dove sarebbero potuti restare solo una settimana. Certo, non era questo che avevano pensato le istituzioni e il mondo del volontariato locale. Ora i profughi sono di fatto dei clandestini. Due furti in appartamento sono stati sventati dalla polizia, grazie alla determinante collaborazione dei cittadini, che in un caso hanno dato tempestivamente l'allarme, mentre in un secondo caso hanno addirittura placato e bloccato loro stessi uno dei ladri. È successo tutto sabato sera, nell'arco di poco meno di un'ora. Il primo episodio alle 20.40 a San Paolo, dove i poliziotti sono riusciti a bloccare uno dei ladri. Si tratta di un 26enne albanese che appena un mese fa era stato arrestato per un altro furto. Alle 21.20 il secondo episodio, stavolta a Casale. In questo caso il proprietario dell'abitazione, aiutato da due vicini, è riuscito a sorprendere due ladri e a bloccarne uno dopo una violenta colluttazione. Si tratta di un 19enne pratese. Fine settimana di incidenti stradali. Una bambina di 4 anni è stata investita in via Boni. Un'auto si è schiantata contro un albero in via Roma dopo aver travolto un pedone. Claudio Vannacci. Fine settimana da dimenticare per i tanti incidenti avvenuti sulle strade pratesi. Tra le cause sicuramente anche il maltempo con la pioggia che ha reso scivoloso il manto stradale, ma una componente è da debitare anche al fattore umano. La serie nera è iniziata sabato sera lungo la SR325 all'altezza della Cartaia, nel comune di Vaiano. Un'auto ha perso il controllo ed è finita nel dirupo dopo aver scavalcato il muretto che costeggia la strada. Miracolosamente illesi gli occupanti che sono usciti sani e salvi dal mezzo, poi recuperato dai vigili del fuoco con un autogru. E' andata molto peggio invece ai protagonisti dell'incidente avvenuto ieri mattina all'alba in via Roma, all'altezza delle Fontanelle. Un'auto guidata da un ventenne ha travolto un pedone per poi andare a schiantarsi contro un albero. Ricoverato in codice rosso il pedone, che ha 35 anni, è il passeggero, 19enne, dell'auto. Ferita anche una ragazza che stava sui sedili posteriori del mezzo. Infine, a chiudere la serie nera, l'investimento di una bambina di 4 anni è accaduto ieri mattina alle 10 in via Boni e la piccola è stata portata in ospedale, per fortuna non in gravi condizioni, a preoccupare il piedino schiacciato dalla ruota dell'auto. Hanno voluto portare in auto la loro congiunta all'ospedale senza chiamare il 118 e quindi attendere l'arrivo dei sanitari. Quando però sono arrivati al pronto soccorso del Santo Stefano, la donna purtroppo era già morta. E' accaduto sabato sera, poco prima delle 23. La vittima è una donna di nazionalità cinese che abitava a Carmignano e che sabato sera ha avuto un malore mentre si trovava con il marito e con il figlio. Cambiamo argomento, lasciamo la cronaca. Il 5 settembre a Prato, un grande concerto dedicato a Francesco Nuti. E' stato presentato stamani in Palazzo Comunale. Non prendete impegni per il 5 settembre. Prato quel giorno diventerà palcoscenico di un grande concerto senza precedenti in città, con almeno 6-7 artisti di fama nazionale e internazionale che daranno vita in piazza mercatale allo spettacolo dedicato a Francesco Nuti, voluto dall'amico fraterno Giovanni Veronesi che ha diretto tutti i film dell'attore pratese fino a Occhio Pinocchio, dal fratello Giovanni e dall'amministrazione comunale. L'evento intitolato Le Notte di Cecqua è stato presentato stamani ed è l'appuntamento clou del settembre pratese, un modo per ripercorrere la carriera musicale di Francesco Nuti da sempre innamorato della musica. Molte le canzoni scritte da solo e con il fratello Giovanni fino al sogno che nel 1988, quando era già un attore affermato, si realizza con la partecipazione a Sanremo con la canzone Sarà per te. Francesco ama molto la sua città e quindi regalare alla sua città un concerto del genere secondo me è la cosa più bella che poteva fare. Francesco mi ha insegnato che cos'è la comicità, quella raffinatezza nella recitazione che aveva lui. quando dirigo gli attori, anche i più grandi, mi ricordo sempre di come faceva lui a fargli vedere come si faceva la scena. Francesco Nuti il 5 settembre ci sarà, lo ha detto il fratello, che ha anche aggiunto di voler cantare qualcuna tra le prime canzoni scritte dall'attore. Il primo ottobre secondo me è la più bella canzone di Francesco. Puppa Pera è la canzone conosciuta dal pubblico, più vasta, ma quella in cui lui ha creduto di più, ci ha lavorato di più, è sicuramente il primo ottobre. Fare una festa per Francesco e soprattutto anche Francesco nei confronti della nostra città è stata l'ispirazione che, devo dire, ha trovato subito un grande consenso da parte di tutti gli artisti, chi direttamente l'ha conosciuto, ma anche chi direttamente non l'ha conosciuto, ma che si sente per l'opera di Francesco fortemente impegnata a venire a dare un piccolo contributo. Ma un pezzetto di Puppia Pera ce lo canta? Chi? Io? Mi piace soltanto un pezzettino di Puppia Pera che dice sesso flessuosa, tu sei esosa. Quello mi piace, perché è una rima strana. Solo Francesco le faceva queste cose. E c'è una novità per il laghetto degli Alcali, infatti arriva una scuola di vela, sentite. Nuova vita al laghetto degli Alcali che a breve diventerà una scuola di vela grazie alla convenzione firmata stamani tra la proprietà, la società Andromeda e la Lega Navale Italiana. Una porzione di terreno diventerà invece un giardino pubblico per effetto dell'accordo raggiunto con il Comune di Prato. Si realizza così l'obiettivo di un recupero ambientale di tutta l'aria, obiettivo a cui ha a lungo lavorato la circoscrizione Est d'accordo con il Comune. Per gli Alcali dal 13 aprile, data dell'inaugurazione delle attività, si apre una nuova fase che cancellerà degrado e abbandono. È un lavoro che nasce da lontano, diciamo in questi ultimi tre anni abbiamo veramente cercato di rimettere insieme il progetto, di farlo diventare un progetto possibile, fattibile. Abbiamo trovato una risposta dalla Lega Navale e dalla società Andromeda che è la proprietaria del luogo. Sarà sicuramente un recupero importante, un laghetto che è veramente bello. Potrà essere fruibile anche dal punto di vista sportivo attraverso la Lega Navale, ma soprattutto si recupera una fetta di città, perché lì siamo nel centro della città, una fetta di città importante che era veramente bisognosa di intervento. Nel dettaglio la Lega Navale gestirà la sponda del laghetto, circa 6.000 metri quadrati, che servirà alle lezioni di vela ai ragazzi delle scuole e alle associazioni per i disabili. Il Comune si occuperà di gestire il giardino pubblico che nascerà a lungo via De Gasperi. La società Andromeda infine si impegnerà a custodire il resto della proprietà, mantenendola in ordine. Era questa la nostra ultima notizia, grazie e arrivederci dal Tg Prato.